Io non so, lui ha fatto riferimento a mie frasi che in effetti ci sono state nei mesi scorsi di forte critica contro l'estremismo di Casa Pound, citandole a me sembra, io adesso non mi ricordo precisamente quello che lui ha detto, ma le citava in modo così un po' raffazzonato, senza puntualità, io ho fatto dei discorsi più culturali che altro. Mi dava dell'infame, mi ha rinfacciato il fatto che io negli anni scorsi avevo presentato il mio libro Fascisti immaginari insieme a Luciano Lanna, scritto insieme a Luciano Lanna, l'avevo presentato nel 2003 a Casa Pound a Roma, come tanti altri intellettuali hanno fatto e quindi mi ha rinfacciato sostanzialmente di essere un traditore.